cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo l'anticiclone nord africano si consolida in maniera più decisa sull'italia l'ondata di caldo si fa via via più intensa vediamo il dettaglio di venerdì 20 maggio sul veneto avremo una giornata di sole pieno come vediamo il cielo infatti si presenterà sereno o velato non si esclude la consueta variabilità pomeridiana sui rilievi e sulla pedemontana temperature in aumento con valori estivi minime tra 11 e 20 gradi massime comprese invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui tempo buono con un ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà sgombro da nuvi temperature minime tra i 12 e i 18 gradi massime sui 26 30 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige tanto sole ovunque anche qui con qualche nube alta ma innocua temperature minime intorno ai 15 16 gradi massime sui 31 32 all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massaccio del contadino a dolo pitta